Tutti i martedì e soltanto il martedì del mercato cittadino del San Decenzio, il nuovo parcheggio di via Belgioioso via Mirabelli a servizio dello stesso mercato e del cimitero centrale è con sosta a rotazione con disco orario obbligatorio di 120 minuti. Questo è il secondo martedì con questa novità, il primo è stato abbastanza traumatico anche probabilmente per colpa di una comunicazione non così incisiva. Oggi è diverso, ci sono i cartelli scritti a penna da Valerio Tamburini, responsabile degli ambulanti del mercato di Pesaro, è arrivata anche una cartellonistica più ampia, c'è anche la protezione civile che macchina per macchina avvisa del nuovo provvedimento per chi entra appunto nel parcheggio. Insomma si sta facendo di tutto per evitare un altro martedì di multe a raffica dopo le 122 sanzioni arrivate lo scorso martedì. Io responsabile del mercato di Pesaro mi ero già attivato sin da martedì avvisando la gente, non avevamo la protezione civile, non avevamo questi cartelli ben visibili, però dico questo, già dal 28 marzo avevamo avvisato la popolazione di Pesaro di questa cosa anche perché diciamo così il problema nostro è quello di tenere libero il parcheggio almeno il martedì mattina per il mercato settimanale. Questa è una grossa realtà anche perché noi siamo l'unico mercato in Italia, l'unico che paghiamo una tassa ricognitoria di 400 euro all'anno per 30 anni per poter avere questo parcheggio che è tardato solo 11 anni. Ora cosa chiediamo? Il martedì mattina questo parcheggio deve servire esclusivamente per il mercato cittadino, solo questo. 120 minuti che sono anche una cifra temporale più che sufficiente per arrivare e fare gli acquisti al mercato. Sono in due ore giri il mercato tranquillamente, metti il disco orario, non hai il pagamento e non prendi la multa. Mi sembra una cosa molto molto giusta anche perché come ripeto noi ambulanti e il mercato di Pesaro lo dobbiamo far crescere perché Pesaro merita un mercato diverso con molta più gente. Qua state facendo di tutto per avvisare, il problema è chi parcheggia magari dal lunedì precedente che ancora non ha recepito il messaggio. Noi ci stiamo impegnando per non far prendere la multa alla gente, però io come ho notato molta gente passa nemmeno guarda, molta gente è stata scortesa nei miei confronti pur avvisandoli e quindi ci sono prese delle multe. A questo punto il mio compito termina qua anche perché la gente deve capire che solo il martedì mattina dalle 9 alle 13 con il disco orario si può parcheggiare, altrimenti se è pieno questo parcheggio adiacente al cimitero ce n'è un altro che la sosta è illimitata.